Scherzosamente l'ho denominato operazione Rive Libere. Per il numero di agenti impiegati e la meticolosità dell'attività svolta, la si può davvero chiamare un'operazione. Palcoscenico, le rive, per un problema noto da anni e non solo in quella zona, ovvero i posteggiatori abusivi. L'attività posta in essere dalla polizia locale è stata significativa. La scorsa settimana, sul tratto dei posteggi blu della sacchetta, un nutrito contingente di 30 agenti ha identificato 10 posteggiatori abusivi verbalizzando loro le violazioni al regolamento di polizia urbana con ordine di allontanamento per 48 ore. Che cosa si è fatto? Con questa operazione noi abbiamo utilizzato addirittura 30 agenti della polizia locale, voi pensate che è più del 10% dell'intera forza della polizia locale a Trieste, 18 di quali in Borghese e abbiamo fatto un'operazione a Tenaglia nel momento in cui queste persone sono state poi 10 parcheggiatori abusivi sono stati fermati e identificati per attuare poi le procedure del DASPO. Inutili le sanzioni, ha spiegato il vice sindaco, si deve intervenire con i DASPO e in caso di comportamenti reiterati si può arrivare all'allontanamento per sei mesi. Strade queste attuate con le leggi vigenti che secondo il vice sindaco sono un piccolo passo verso una soluzione o quantomeno un modo per ridurre il fenomeno delle rive. Dove si è pensato di andare a colpire? Per quanto riguarda sicuramente il loro permesso di soggiorno per esempio. Come viene intaccato questo loro permesso di soggiorno? Che poi si potrebbe arrivare al punto di non averlo più rinnovato o di addirittura toglierlo. Attraverso la combinazione di queste sanzioni che sono nella fattispecie di DASPO urbani, cioè di allontanamento urbano, nel momento in cui vieni preso, entro le 48 ore di tempo non puoi tornare nella zona, se no ti puoi prendere un'altra sanzione che ti porta all'obbligo di restare fuori per sei mesi. Si va in maniera massiccia, in maniera strategica a cercare di ridurre il fenomeno, da una parte ovviamente tenendo presente quali sono le possibilità di utilizzare la legge e quindi di combinare le sanzioni.